ben trovati al corso di montaggio con adobe premiere in realtà ancora premiere non lo abbiamo aperto e vi dico questa cosa non lo apriremo nemmeno questa volta e no c'è ancora un po di teoria da dover insegnare qualche piccola nozione ancora da dare quindi abbiate pazienza resistete ancora qualche lezione vedrete che se imparate queste quattro cose che vi sto dicendo in queste lezioni teoriche poi quando andremo a mettere mano su premiere sarà tutto molto più chiaro e molto più semplice quindi abbiate pazienza a proposito sono fabio ambrosi ben trovati sono il vostro istruttore ma non mi piace chiamarmi così diciamo che sono il vostro fratellone maggiore che da tanti anni si occupa di montaggio video e che vuole condividere con voi quello che sa su questo mestiere e vuole insegnarvi a utilizzare premiere grazie grazie per essere per essere qui spero di potervi insegnare tante belle cose e registratevi al canale youtube per restare sempre aggiornati su tutti i video che pubblicherò da qui in avanti seguitemi sul sito www.fabioambrosi.it e venite a trovarmi su facebook e fabio ambrosi la pagina del sito perché così possiamo in qualche modo tenerci aggiornati potete correggermi se dico fandonie si vuol dire fandonie sì forse sì e potete anche perché no aggiungere qualcosa ecco se mi sono dimenticato qualcosa potete fare domande o se sapete qualcosa in più di me potete aggiungere o dicevo torniamo a noi parliamo di teoria parliamo di una cosa molto importante e torniamo un secondo serie parliamo di risoluzione come abbiamo detto nella lezione precedente vediamo tornare indietro un pochettino un video un segnale video per adesso lasciamo perdere l'audio ok parliamo solo del video ha tre caratteristiche ben precise che sono la risoluzione il numero di fotogrammi per secondo sintetizzato con l'acronimo fps e il tipo di scansione dimenticate per adesso il numero di fotogrammi per secondo e la scansione parliamo di risoluzione che cosa vuol dire risoluzione ok immaginate da avere davanti a voi un quadro ok un quadro di quelli che avete appeso che trovate appesi alle pareti della vostra casa per esempio ecco un quadro un quadro ha una grandezza voi come lo misurate un quadro no in larghezza per altezza giusto fantastico un video potrà stupirvi ma viene misurato allo stesso modo con una altezza con una larghezza e con un'altezza quindi noi sostanzialmente quando parliamo di risoluzione parliamo di una caratteristica importante che ha un video che descrive in qualche modo quanto è grande il frame ovvero il fotogramma ok che in qualche modo contiene le nostre immagini facciamo un passo indietro ok voi state vedendo un video in questo momento è un video lo state vedendo su un monitor sul monitor di un computer ma potete vederlo anche sul televisore di casa è la stessa cosa questo video ha dei pixel che lo compongono un pixel cos'è facciamo una cosa andiamo a cercare facciamolo insieme ok live andiamo a cercare l'immagine di un pixel vediamo se troviamo se siamo fortunati pixel 3 magari anche no vediamo se troviamo un'immagine che descriva bene cos'è un pixel ecco questo potrebbe andare bene forse questa immagine potrebbe fare al caso nostro ok apri immagini un'altra scheda eccoci qua wow ho preso un'immagine sfigatissima ma ok ingrandiamola un pixel non è altro che una parte di cui è composta l'immagine notarialmente un puntino un pallino tanti pixel messi insieme no formano la nostra la nostra immagine ok sto semplificando è sto semplificando però il senso di quello che vi sto raccontando è questo questa fantastica immagine è composta da tanti pixel in orizzontale e tanti pixel in verticale è chiaro che più pixel abbiamo in orizzontale e in verticale maggiore definizione avremo nell'immagine che in questo momento stiamo vedendo ok e quando parliamo di immagine full hd o immagine in 4k noi stiamo dicendo proprio questo cioè stiamo dicendo quanti pixel ci sono in orizzontale e quanti pixel ci sono in verticale torniamo alla nostra immagine alla nostra immagine di prima ok quando parliamo di televisore in 4k stiamo dicendo che il nostro televisore ha una risoluzione di ben 4096 pixel per 2160 pixel quindi abbiamo una definizione estremamente elevata quando abbiamo acquistato un televisore in full hd diciamo che abbiamo acquistato un televisore che ha 1920 pixel in orizzontale e 1280 pixel in verticale una volta quando c'erano diciamo i vecchi televisori quelli con gli scatoloni degli anni 90 che fino a qualche anno fa ancora circolavano la risoluzione delle immagini era molto più piccola guardate questa questo quadratino qui avevano delle risoluzioni di 720 x 576 o 768 x 576 delle risoluzioni stranamente più piccole rispetto agli attuali 4k è chiaro che più fotografi un pixel ci sono migliore sarà la qualità della nostra immagine se torniamo su youtube e guardiamo per esempio questa immagine ok questa immagine la vedrete sicuramente sfocata poco definita diciamo quasi bruttina no perché perché io sono andato a scegliere un immagine con 144 pixel in verticale praticamente un immagine abbastanza abbastanza di pessima qualità andiamo a scegliere la massima qualità disponibile su youtube no il 2160 p che altro non è che essere il 4k guardate come cambia la qualità è quasi riesco a vedere i dettagli del singolo cibo che ho qui davanti mi viene quasi un po fame vedete come cambia significativamente no quindi la risoluzione è sicuramente una delle caratteristiche più importanti del nostro video ed è importante sapere questa risoluzione perché quando andiamo a montare dobbiamo essere consapevoli di quale risoluzione hanno i video sorgente che stiamo lavorando in altre parole il nostro cellulare come ha girato le immagini che stiamo per montare ecco in hd super hd 4k e dobbiamo saperlo devo sapere a quale risoluzione devo esportare il video perché se il video va su youtube magari non serve che esportiamo in 4k no se il video magari deve essere proiettato al cinema magari si nella prossima lezione esploreremo un'altra caratteristica importantissima del segnale video il numero di fotogrammi per secondo non voglio anticiparvi nulla vi aspetto alla prossima lezione del corso di montaggio in Adobe Premiere sono Fabio Ambrosi se volete fare domande fatele qui in basso commentando questo video registratevi al canale per restare aggiornati sulle prossime release dei tutorial commentate venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it seguitemi su facebook alla pagina Fabio Ambrosi teniamoci in contatto se avete domande sarò felicissimo di rispondervi se volete aggiungere qualcosa fatelo tranquillamente nella prossima lezione andiamo avanti tra poco metteremo mano su Premiere non vi preoccupate abbiate ancora un pizzico di pazienza